Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un altro unboxing. Cominciamo subito a spacchettare il pacco. In questo caso è una scatola di scarte. Cosa ci sarà? Il ventitore l'ha messo uno per uno nel pluribon. Oh, abbiamo Capitan America. Qua abbiamo Black Widow e Thor. Poi abbiamo Star Lord. E infine Iron Man. Per oggi è tutto. Grazie per l'avvisione. Ciao!